amen alleluia 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 gloria gloria al padre al figlio e lo spirito santo o dio mio ti ringraziamo alleluia ancora in questa giornata padre nella tua presenza signore nel tuo amore signore nella tua misericordia padre ti ringraziamo alleluia dio della gloria padre celeste ti ringraziamo ancora in questo momento padre in questa giornata signore ti chiediamo la guida la presenza dello spirito santo che prenda il controllo signore delle nostre vita dei nostri cuori delle nostre menti delle nostre anime dei nostri corpi in questa giornata signore vogliamo vedere la tua gloria signore vogliamo stare nella tua presenza signore cercando signore la tua faccia cercando signore nuove forze nello spirito ci bandoci della tua parola padre della tua presenza alleluia perché la tua parola è vita la tua presenza signore è potenza per noi signore noi viviamo in te gesù in te padre i celeste io ti ringrazio in te padre di lavarci nel sangue di Gesù Cristo di renderci puri nel sangue di Gesù Cristo ancora in questa giornata vogliamo stare signore in comunione con la tua luce la tua parola padre Padre dice che tu sei luce e che in te non vi è tenebre e che se noi camminiamo nelle tenebre non abbiamo comunione con te, noi ti vogliamo chiedere liberaci da ogni opera delle tenebre, da ogni contaminazione perché noi vogliamo Padre vivere nella luce, vogliamo essere in piena comunione con te, alleluia, vogliamo cibarci dalla tua presenza, alleluia, della tua parola Signore, vogliamo come dice la tua parola Signore bere il tuo sangue, cibarci dalla tua carne, alleluia, essere saziati, alleluia, in quella comunione intima con Gesù Cristo, alleluia, che è la parola, che è la verità, Padre, tu hai apparecchiato una mensa per noi di cibi spirituali, alleluia, e unire lo spirito Padre con i fratelli, con le sorelle, vogliamo riempire i nostri cuori Padre, alleluia, vogliamo Signore che il nostro cuore sia libero da ogni distrazione, da ogni pensiero, alleluia, ti vogliamo cercare, come dice la scrittura Signore, con la preghiera, col digiuno, alleluia, con la supplica, con la ricerca Signore della tua parola, perché non di solo pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla tua bocca, Re dei Re, Signore dei Signori, alleluia, siamo qui davanti a te, Re di gloria, innalzati, alleluia, innalzati, innalzati Padre, facci vedere la tua gloria, fa risplendere la luce del tuo volto sui tuoi servi, sui tuoi figli, soffia dai quattro venti col tuo santo spirito e dai vita in abbondanza, alleluia, riempi i nostri cuori di vita, di potenza, alleluia, d'amore, alleluia, 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 Ti amo, Ti ringraziamo, Signore, alleluia, vogliamo stare davanti a te, Signore, vivendo negli umi tempi, vogliamo farci sempre di più a te, Padre, affinché tu ci possa preservare, Signore, da questi tempi malvagi, per vivere in te, Signore, in tua presenza, per essere consacrati, per essere santificati, alleluia, alleluia, grazie Padre, tu sei santo, santo, nessuno è come te, tu sei santo, santo, gloria d'onore a te, alleluia, tu sei santo, santo, nessuno è come te, tu sei santo, santo, gloria d'onore a te, alleluia, sì, Signore, io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò, davanti al trono, davanti al trono, io mi prostrerò, perché a parte guate, io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò, alleluia, oh gloria, davanti al trono, io mi prostrerò, perché a parte guate, sì, signore, alleluia, io canterò le tue lodi, io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò, alleluia, davanti al trono, io mi prostrerò, perché a parte guate, sì, Signore, grazie, alleluia, che mediante il sangue di Gesù Cristo, oggi apparteniamo a te, Padre, ci hai pagati a caro prezzo, alleluia, ci hai pagati, ci hai redenti a caro prezzo, mediante il sangue di Cristo, Padre, la nostra salvezza, oh Dio, è costata il sangue del tuo figlio, Signore, e noi vogliamo essere consapevoli di ciò, Signore, perché in noi, Signore, non vi è alcun bene, perché noi siamo polvere, siamo miseri, ma è mediante il sangue di Gesù Cristo che tu ci hai reso degni, Signore, tu ci hai redenti, ci hai salvati, e ancora in questa mattina ti chiediamo lavaci, purificaci, alleluia, coprici col sangue dell'agnello, il sangue di Gesù Cristo, Signore, purifica i nostri cuori, le nostre menti, togli via ogni pensiero malvagio, ogni pensiero negativo, e metti in noi la mente di Cristo, alleluia, affinché, Signore, possiamo stare in armonia con Te, Signore, possiamo dilettarci nella Tua presenza, noi vogliamo gioire nella Tua presenza, vogliamo che la Tua presenza per noi sia il pane, l'acqua, l'aria che respiriamo, alleluia, la fonte della vita per noi, Signore, alleluia, perché la Tua presenza, Signore, vale più della vita, vale più delle ricchezze, vale più dei piaceri, vale più, Signore, di ogni cosa di questo mondo, la Tua presenza, Signore, ci sazia, ci dà pace, ci dà gioia, riempie ogni cuore, Signore, dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore, con la Tua presenza, alleluia, che ognuno di noi, che ognuno padre, dei miei fratelli, delle mie sorelle, possano vedere la Tua gloria nel nome di Gesù Cristo, uniti nella fede e che ognuno possa vedere, Signore, la potenza dello Spirito Santo scendere su di loro, alleluia, come pioggia, come fuoco dal cielo, mio Dio, alleluia, perché abbiamo bisogno di essere ravvivati nello Spirito, Signore, nel nome di Gesù, noi veniamo a Te, Padre, noi siamo davanti a Te, noi viviamo in Te, per mezzo di Gesù Cristo, l'amato Tuo Figlio, il glorioso, il meraviglioso, il Re dei Re, il Benedetto in Eterno, che noi amiamo, noi ringraziamo, noi adoriamo, grazie per questa giornata, Signore, prendi Tu il comando, guidaci in ogni cosa, nella lettura biblica, nella riflessione, alleluia, nella preghiera, nel nome di Gesù, Padre, grazie, Signore, alleluia, Tu sei qui, tu sei qui in mezzo a noi, Signore, alleluia, alleluia, perché chi ti cerca, Signore, ti trova, grazie Padre misericordioso, Abba Padre, ti amo Gesù, ti amiamo, Signore, alleluia, 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 grazie Padre, nel nome di Gesù, alleluia, 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 pace, pace, gloria a Dio, del Signore a tutti, amè, alleluia, una gioia, ritrovarci ancora questa mattina, gloria a Dio, amè, per poterci, gloria a Dio, ci bare, fratelli, della parola e della presenza di Dio, questo è lo scopo del nostro raduno, amè, della nostra riunione nella presenza di Dio, amè, amè, poterci, gloria a Dio, cari fratelli e sorelle, ci bare della parola e della presenza di Dio, ecco perché ancora oggi, alla gloria di Dio, amè, abbiamo convocato nel santo nome di Gesù Cristo, amè, una giornata di preghiera, di digiuno, amè, nella presenza del Signore, per cibarci spiritualmente, cari fratelli e sorelle, amè, vogliamo tralasciare gli affanni della vita materiale, salire sul monte dell'eterno, alleluia, gloria a Dio, vogliamo tralasciare le distrazioni, gloria al Signore, amè, vogliamo lasciare da parte le preoccupazioni della vita terrena, anche se sembrano cose giuste o lecite o necessarie, vogliamo per qualche ora, fratelli, secondo le possibilità di ognuno, dimenticare tutto, amè, lasciare da parte perfino i cibi terreni, amè, alleluia, oh gloria a Dio, quanti dicono amè, amè, alleluia, vogliamo lasciare da parte i cibi materiali, questa mattina lasciamo da parte la colazione per cibarci dalla parola di Dio, amè, se qualcuno non ha mai fatto l'esperienza del digiuno, che è biblico, ce l'ha insegnato il Signore, come ho già detto, c'è il digiuno privato, personale, ma la Bibbia ci insegna che c'è anche il digiuno comunitario, o il riduno dell'assemblea, amè, in cui il popolo convoca, alleluia, un digiuno, alla masciade che meressui, una solenne assemblea, alleluia, una convocazione spirituale, fratelli, per cercare, amè, la faccia di Dio, è biblico, è pienamente biblico, anche se alcuni oggi purtroppo uomini dicono che il digiuno non è più in vigore, ma non è così, fratelli, il digiuno è pienamente in vigore perché Gesù Cristo ci ha insegnato a digiunare, amè, gloria a Dio, lui ha detto pure quando lo sposo sarà loro tolto, digiuneranno, alleluia, un giorno disse agli apostoli, magari poi leggiamo quel brano, alleluia, perciò fratelli vogliamo dimenticare, vogliamo dimenticare in questa giornata ogni cosa per immergerci nel fiume di Dio, amè, nella presenza di Dio, nella parola di Dio, vogliamo lasciare da parte i cibi materiali, vogliamo dimenticare di fare colazione, percibarci nello spirito, percibarci nella parola, nella preghiera, nella presenza di Dio, amè, alleluia, poi quando arriverà l'ora di pranzo, Dio piacendo, ci rivedremo ancora, amè, lasceremo da parte il pranzo percibarci spiritualmente, alleluia, a Dio sia la gloria, amè, perciò non ti preoccupare sorella, gloria a Dio, ma l'importante è che hai fame del Signore, amè, non ti preoccupare fratello, amè, anche se a volte ci sono delle debolezze, ma l'importante è che abbiamo fame del Signore, amè, se qualcuno non ha mai avuto l'esperienza del digiuno, amè, piano piano si impara nel nome del Signore, fratelli, perché tutti dobbiamo imparare, tutti siamo umanamente deboli, mancanti, imperfetti, io vi confesso che in passato, in passato avevo proposto nel mio cuore di fare digiuno magari un giorno e poi non l'ho fatto e Dio ha avuto pietà di me, amè, qualche volta in passato ho detto oggi digiunerò e poi non l'ho fatto, perciò fratelli Dio conosce le nostre debolezze, però noi vogliamo pure riconoscere che il nostro Dio è potente, all'amachia, alleluia, da darci la forza di resistere, fratelli, amè, di stare in digiuno, di astenerci, gloria a Dio, alleluia, dai cibi per fortificarci nel Signore, amè, e nella forza della sua potenza, questa mattina voglio iniziare leggendo, gloria a Dio, vi saluto nell'amore del Signore, amè, Gesù Cristo, alleluia, voglio iniziare insieme a voi leggendo il Salmo 113 e intanto come abbiamo già fatto sabato scorso, amè, e a Dio piacendo faremo ogni sabato, nel nome del Signore Gesù Cristo, se voi avete in cuore qualche brano che volete che leggiamo, perché siccome siamo in una riunione comunitaria, vogliamo ognuno apportare, amè, chi ha un salmo, chi ha una lettura biblica che vuole leggere, chi ha un proverbio, amè, chi ha un brano della scrittura, qualsiasi esso sia, amè, fratelli, oh, alleluia, qui non vogliamo fare delle distinzioni, ma qualsiasi brano, alleluia, anche lungo, non interessa, qui non avremo problemi di orario, amè, l'unico problema, tra virgolette, che io ho, sapete qual è, che il cellulare mi si scarica e che poi lo devo ricalicare, gloria a Dio, ma poi, amè, rimarremo uniti nello spirito, continueremo, amè, a pregare nel nome di Gesù Cristo, ora, chi mascea, Padre, continua a darci la forza in questa giornata, siamo qui per la Tua gloria, Signore, in ubbidienza alla Tua volontà, perché abbiamo un desiderio ardente, alleluia, della Tua presenza, della Tua gloria, della Tua, alleluia, santa parola, mio Dio, Tu lo sai, che al di là delle nostre debolezze, dei nostri difetti, Signore, noi vogliamo cercarti, vogliamo amarti, alleluia, vogliamo ubbidirti, alleluia, con tutto il cuore, Signore, ancora ci umiliamo e veniamo alla fonte dell'acqua della vita, questa mattina dichiariamo, Signore, una giornata consacrata all'eterno, come dice anche il libro di Neemia, non siate tristi, questo giorno consacrato all'iddio del cielo, non siate tristi, rallegratevi nel Signore, perché la gioia del Signore è la nostra forza, alleluia, sì, Signore, cibaci con la Tua gioia, con la Tua parola, alleluia, ti amiamo, Cristo, vogliamo bere alla Tua sorgente, all'acqua della vita, per essere rigenerati, lavati, purificati, saziati, disetati, oh, alleluia, e ricolmi di ogni bene, Padre, fai grandi opere nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, fai sì che loro vedano, sperimentino nella loro vita personale, che non è in vano, pregare, digiunare e leggere, Padre, la Tua parola, che loro vedano la Tua potenza, la Tua gloria, la Tua maestà, vedano i frutti nelle loro vite, nelle loro famiglie, Signore, ti presentiamo ogni vita, ogni cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, ricolmali abbondantemente di ogni bene, di ogni grazia, di gioia e di Spirito Santo, alleluia, alleluia, che la Tua scecchina scenda su di noi, Padre, e riempie il Tempio, riempie la casa, riempie la vita di ognuno di noi, alleluia, ti amo, Padre, guidami ancora nella parola e metti Tu nel nostro cuore i brani che dobbiamo leggere, le scritture che dobbiamo leggere, le Tue parole che dobbiamo leggere, mettile nel cuore, Signore, di ognuno, affinché ognuno possa contribuire all'edificazione spirituale, perché Tu sei il capo e noi siamo il corpo, vogliamo stare uniti, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre, e fai sì che in questa giornata di digiuno, di preghiera, nella Tua presenza, nella Tua parola, anche le nostre case siano illuminate, le nostre famiglie, possiamo vedere il frutto della Tua presenza, della Tua parola e della Tua grazia. Nel nome di Gesù, il Benedetto in Eterno. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia lodato, cari fratelli. Vogliamo leggere, per iniziare, il Salmo, alleluia, 113. Amen. Il Salmo 113, nel nome del Signore, alla gloria di Dio. E intanto, se avete qualche brano, qualche verso, qualche passo delle scritture, della santa parola di Dio, che volete che leggiamo, Amen, potete scriverlo. Vedo già qualcosa. Dio benedica la nostra sorella, che ha scritto, gloria al Signore. Poi leggeremo prima Timoteo, capitoli 3, 4, 5, e 6. Amen. Le leggiamo tutti. Gloria a Dio. Amen. Non abbiamo nessun problema. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salmo 113. Iniziamo con questo. È scritto qui. Inno di lode al Signore per la sua grandezza e bontà verso i bisognosi. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Benedetto il Dio. Dice Salmo 113, dal verso 1. Alleluia. Benedetta è la potenza, la presenza di Dio. Alleluia. Lodate, osservi dell'Eterno. Lodate il nome dell'Eterno. Amen. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Ora e sempre. Alleluia. Dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno. Alleluia. È eccelso. Il Signore su tutte le nazioni. La sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno? Il nostro Dio che abita nei luoghi altissimi, che si abbassa a guardare le cose che sono nei cieli e sulla terra. Fratelli, chi è simile all'Eterno? Nessuno. Verso 7. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura per farlo sedere coi principi coi principi del suo popolo. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Egli fa abitare la donna sterile in famiglia. Quale madre felice di figli. Alleluia. Fratelli, sorelle, il nostro Dio è degno di ogni lode. Di ogni gloria, di ogni alleluia ringraziamento. Dobbiamo lodare Dio del continuo. perché lodare Dio, fratelli e sorelle, è un comandamento del Signore. Amen. Lodare Dio non deve essere un'emozione che io sento. Io sento di lodare, io me la sento. No, fratelli. Lodare Dio è un comandamento. E noi dobbiamo ubbidire per fede e per ricoloscenza nei suoi confronti ricordandoci, fratelli, da dove il Signore ci ha tirato fuori. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura. Fratelli, noi eravamo persi nella miseria del peccato, dell'immondizia spirituale, nel fango. Io, fratelli, io personalmente ero immerso nel fango, ma Dio mi ha tirato fuori. Alleluia. E mi ha fatto sedere quei principi del suo popolo. Ha scritto il mio nome in gloria. Alleluia. Oh, gloria. Alleluia. Ha scritto il mio nome nel libro della vita. Ha scritto il tuo nome nel libro della vita. E allora noi possiamo essere e dobbiamo e vogliamo essere riconoscenti e lodare Dio. Sforzarci. Dobbiamo sforzarci di lodare Dio. Perché, fratelli e sorelle, come tutti noi sappiamo, a volte la nostra carne, la natura umana, non vuole lodare Dio. Non vuole pregare, non vuole leggere la Bibbia. La carne è pigra. Vorrebbe dormire, vorrebbe dilettarsi nella comodità di questo mondo. Ma noi dobbiamo sforzarci di lodare Dio, fratelli. Prima di passare alla lettura in Prima Timoteo, capitoli 3, 4, 5 e 6, vogliamo leggere un altro verso in ebrei. Amen? Che Dio metta nel mio cuore che si collega a quello che stiamo dicendo di lodare Dio, fratelli, e di sforzarci. Amen? Di sforzarci. Alleluia. Di lodare Dio. Perché Lui merita la gloria. Lui è degno, come dice quel canto. Sei degno della gloria e l'onore. Padre, alzi alle nostre mani, celebrando il nome tuo, sei degno della gloria. Alleluia. E l'onore. Padre, alzi alle nostre mani, celebrando il nome tuo, grande sei tu, grandi meraviglie fai, nessun altro come te. Alleluia. Nessun altro come te. Grande sei tu, grandi meraviglie fai, nessun altro come te, Gesù. Alleluia. Nessun altro come te. Alleluia. Sei degno della gloria. E l'onore. Alleluia. Padre, alzi alle nostre mani, celebrando il nome tuo, degno della gloria. e l'onore. E l'onore. Padre, alzi alle nostre mani, celebrando il nome tuo, grande sei tu, grandi meraviglie fai, nessun altro come te. Alleluia. Nessun altro come te. Grande sei tu, grandi meraviglie fai, Gesù. Nessun altro come te. Nessun altro come te. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, alleluia. Sì, fratelli, lui è degno della lode, gloria a Dio. Lui è degno della gloria. E allora noi ci dobbiamo sforzare di lodare Dio. Amen. In ogni tempo, sia nelle buone circostanze, che nelle circostanze negative. Perché come dice un canto, è facile, è bello lodare Dio quando tutto va bene. Ma fratelli, noi dobbiamo lodare Dio, ringraziare, glorificare Dio, anche quando le circostanze, cari fratelli e sorelle, ci sono avverse. Amen. È lì che si vede la vera fede, il vero cuore convertito. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Amen. Lodare Dio in ogni momento, nella malattia, nella salute, nel benessere, nella povertà, o nel momento quando abbiamo tutto, non ci manca niente, noi dobbiamo lodare Dio in ogni momento. Amen. Allora, ci sono momenti, cari fratelli, in cui il lodare Dio richiede uno sforzo, come leggeremo qui in ebrei. Amen. Ebrei 13, gloria al Signore. Amen. Ebrei 13, verso 15. Amen. Dice, per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo, per mezzo di Lui, gloria a Dio, offriamo del continuo a Dio, del continuo, dobbiamo offrire a Dio un sacrificio di lode. Amen. Cioè, il frutto di labbra che confessano o che proclamano o che dichiarano il suo nome. Allora, per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, noi dobbiamo offrire del continuo, che vuol dire costantemente a Dio un sacrificio di lode. Vedete che a volte la lode, fratelli, è un sacrificio. Non è facile, ci vuole uno sforzo, un impegno, possiamo dire anche un combattimento, perché a volte la carne o le circostanze o i pensieri negativi non vogliono farci lodare Dio. Allora lì noi dobbiamo sforzarci con la fede, con la presenza nel nome di Gesù e dobbiamo iniziare a lodare Dio. Lode, lode, gloria, Padre ti adoro, ti ringrazio, gloria a Dio. E allora esce quel sacrificio di lode, un frutto delle labbra. Gesù sei meraviglioso, Gesù sei grande, Gesù benedetto, Gesù grazie, alleluia, Signore, ti ringrazio, sei grande e iniziamo a offrire sacrifici di lode. Amen. E questo, fratelli, porta gloria a Dio, porta gloria al Signore ed è anche un beneficio per noi. È un beneficio anche per noi perché quando noi glorifichiamo Dio la sua presenza si manifesta in un modo tangibile e ci rinnova. Alleluia, ceca vita simalaia e alleluia e alleluia e ci rinfresca, ci rinfresca, fratelli, ci libera, ci rinvigorisce, ci rallegra, ci ristora quando noi lodiamo Dio perché è scritto che il Signore dimora fra le lodi del suo popolo. dimora fra le lodi. alleluia, alleluia, perciò è un santo comandamento, fratelli, è anche un privilegio che noi possiamo lodare il Dio altissimo, il Dio onnipotente, alleluia, il Dio vivente, il vero Dio, amen cari, gloria a Dio, perciò vogliamo lodare il Signore, ringraziarlo, glorificarlo in questa giornata, gloria a Dio, vogliamo pregare qualche minuto adesso e poi leggeremo prima Timoteo capitolo 3 e seguenti, amen, vogliamo in questi minuti ringraziare il Signore, vogliamo ringraziarlo con le nostre labbra, offrire a Lui sacrifici di lode, così in un modo semplice, spontaneo, libero, alleluia, gloria a Dio, alleluia, amen, alleluia, alleluia padre, oh, debahai ashikaramasai, Dio glorioso, Dio maestoso, signori, tutta la terra è piena della Tua gloria, come disse padre, alleluia, come dissero quei cherubini quando Isaia vide la visione, santo, 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 è il Signore, l'eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della Sua gloria, mio Dio ti ringraziamo per la Tua gloria, per la maestà che rifulge sul Tuo volto, Signore, per la Tua gloriosa, maestosa luce che risplende, Signore, su di noi lo spirito nella conoscenza di Dio. Padre, grazie che ci hai chiamati a Te, ci hai attirati, ci hai scelti, ci hai liberati da questo mondo maledetto, da questo mondo tenebroso, da questo mondo che sta morendo nel peccato, Tu ci hai chiamati, Signore, ci hai fatto diventare un popolo santo, una nazione santa, la Chiesa, la sposa dell'agnello di Dio. Padre, grazie perché noi non siamo più cittadini di questo mondo, ma apparteniamo a Te, oh Signore, apparteniamo a Cristo, siamo nuove creature, alleluia, grazie perché siamo della nuova Gerusalemme, ti ringrazio Gesù Cristo, ti lodo, alleluia, aiutami a lodarti ogni giorno di più con la mia vita, Signore, con l'ubidienza, con, alleluia, una vita devota, Signore, davanti a Te, aiuta i miei fratelli, le mie sorelle che sono lì, Signore, in Italia, in Europa, in Italia, in Germania, in Svizzera, in Francia, in Inghilterra, in, alleluia, in Romania, gloria a Dio, alleluia, in ogni luogo dell'Europa, Signore, del mondo, dell'Africa, dell'Asia, dell'Oceania, del Medio Oriente, di Israele, Gerusalemme, alla Mascia, manda una pioggia di Spirito Santo, Padre, nelle nazioni, misericordia, Padre, per il tuo popolo in Nord America, in Canada, Stati Uniti, Signore, Centro America, nei Caraibi, gloria a Dio, Sud America, alleluia, illumina i cuori, Signore, ravviva i cuori, che sia un popolo fervente, che ti loda, che ti glorifica, che ti rende, Padre, sacrifici di lode, sacrifici spirituali, un popolo di veri adoratori, in spirito e in verità, Signore, noi vogliamo essere veri adoratori, giorno per giorno, ti lodo Gesù Cristo, io confesso il tuo nome, alleluia, confesso che sei venuto nella carne, alleluia, perché chi è da Dio, amén, chi vive nello Spirito di Dio, confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne, Signore, io confesso che tu sei venuto nella carne, con il sangue, alleluia, che tu sei il verbo della vita, Emanuele Dio con noi, ti amo Gesù, grazie che ti sei rivelato nella mia vita, grazie che ti sei rivelato nella vita, Signore, dei miei fratelli, delle mie sorelle, ti preghiamo, Signore, fortifica ognuno nello spirito, fortifica le nostre famiglie, fortifica mia moglie, illumina, la sostieni, la riempila, sempre di più, le nostre figlie, la nostra famiglia, così la famiglia di ogni fratello, il marito di ogni sorella, la moglie di ogni fratello, i figli, Signore, e tutta la discendenza, sia benedetta da Te, Padre, che hai fatto i cieli e la terra, vogliamo vedere la Tua gloria, Ti vogliamo adorare, glorificare, lodare sempre di più, dal continuo, alleluia, 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 Gesù, sei prezioso, sei meraviglioso, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia, il Re di gloria, ti ringrazio, ti ringraziamo, Signore, ancora in questa mattina, alleluia, vogliamo cibarci della Tua parola, della Tua misericordia, della Tua presenza, che vale più della vita, perché vale più un giorno, nei Tuoi cortili, che mille altrove, Signore, io preferisco stare qui, nella Tua presenza, che nei luoghi più lussuosi del mondo, Signore, che sono vanità delle vanità, io Ti amo, Cristo, sei tutto per me, Signore, sei il pane della vita, oh Gesù, alleluia, andalabasharabatanachea, ti amassuiekei, ti amiamo Gesù, alleluia, dichiariamo questo giorno, un giorno benedetto dall'Eterno, un giorno glorioso, un giorno vittorioso, alleluia, nel nome di Gesù, Signore, spezza i legami, spezza i lacci, e, Signore, rompi ogni gioco dell'oppressore, nel nome di Cristo, il Tuo amato Figlio, alleluia, 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 Signore, parlaci ancora, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, alleluia, parlaci ancora, Padre, con la Tua presenza, parla ancora, mio Dio, ai nostri cuori, e guidaci, Signore, che sia lo Spirito Santo intercedere per noi, con sospiri ineffabili, riempi il cuore, l'anima, la mente, e anche il corpo, di ognuno di noi, che è il Tempio di Dio, alleluia, parlaci ancora, mediante questi brani, che leggeremo, aiutaci a leggere, senza distrazioni, con una mente, spirituale, una mente, Padre, concentrata pienamente, nella Tua parola, guidaci, in ogni cosa, Signore, e noi ti renderemo, sempre la gloria, sempre la lode, alleluia, alleluia, anima mia, benedici l'Eterno, lodiamo il Signore, gloria a Dio, fin dal sorgere del sole, alleluia, gloria a Dio, Abba, Abba, Abba Padre, alleluia, grazie Padre, fai scorrere, fiumi d'acqua viva, nel nome potente, di Gesù Cristo, sia lodato, il nome del Signore, amén, amén, possiamo respirare, fratelli, nell'aria pura, della Sua presenza, gloria a Dio, amén, alleluia, rallegrati nel Signore, fratello, sorella, nel nome di Gesù, amén, vogliamo leggere, prima Timoteo, dal capitolo 3, intanto controllo, altri brani da leggere, gloria a Dio, dopo, gloria al Signore, prima Timoteo, alleluia, benedetto, il nome di Cristo, ti amiamo, alleluia, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, alleluia, se non sei battezzato ancora nello Spirito Santo, oggi Dio ti può battezzare, chiedili, chiedili, Padre, io voglio parlare nuove lingue, battezzami, con lo Spirito Santo, con il fuoco, alleluia, battezzami Gesù, battezzami, alleluia, chiedilo, chiedi, intanto che leggiamo, intanto che siamo qui, in preghiera, in adorazione, davanti a Dio, nella parola di Dio, chiedi a Lui di battezzarti, amen, Lui ti può battezzare, anche mentre leggiamo la parola, con lo Spirito Santo e con il fuoco, con il fuoco, Padre, battezza, 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 di Spirito Santo, alleluia, oh gloria, gloria all'eterno, allora vogliamo passare gloria a Cristo, prima Timoteo e poi ho già visto che qualcuno ha già scritto un altro brano, amen, leggiamo intanto prima Timoteo capitolo 3, in avanti e poi con l'aiuto di Dio avremo qualche riflessione su questo, amen, gloria a Dio, prima Timoteo capitolo 3, il titolo che trovo qui è Doveri dei Vescovi e dei Diaconi, dei servitori di Dio, ma qui troviamo degli insegnamenti per ognuno di noi, amen, amen, questa parola è sicura se uno desidera l'ufficio di Vescovo desidera un buon lavoro, amen, alleluia, fratelli, sorelle, la parola Vescovo vuol dire sorvegliante, cioè un uomo posto da Dio per sorvegliare il gregge, il Vescovo potremmo chiamarlo anche pastore, potremmo chiamarlo anziano, il Vescovo dalla parola originale greca vuol dire sorvegliante, cioè un uomo chiamato da Dio, alleluia, per sorvegliare, per essere, gloria a Dio, un sorvegliante con l'aiuto di Dio, con la parola di Dio del gregge, amen, perché il grande pastore è Gesù Cristo, ma il Signore stabilisce anche in questa terra dei servitori, dei pastori, dei sorveglianti da parte di Dio che mediante lo Spirito Santo ministrano, amen, alleluia, vogliamo continuare, gloria a Dio, bisogna dunque che il Vescovo sia irreprensibile, amen, aiutaci Signore, marito di una sola moglie, amen, sobrio, assennato, prudente, ospitale, alleluia, atto ad insegnare, gloria al Signore Gesù Cristo, non dedito al vino, amen, quanti dicono amen, non violento, alleluia, non avaro, mio Dio, aiutaci, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, oh Gesù, uno che governi bene la propria famiglia, alleluia, alleluia, e che tenga i figli in sottomissione con ogni decoro, ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? inoltre, egli non sia un neoconvertito, o come dice un'altra traduzione, un neofito, che vuol dire proprio un neoconvertito, cioè una persona convertita da poco, fratelli, una persona convertita da poco non può essere un anziano o un pastore, ma c'è un processo, c'è una crescita, c'è una preparazione spirituale, fratelli, da parte di Dio, ma purtroppo oggi alcuni nelle comunità mettono come responsabili anche dei nuovi convertiti e questo è un grosso errore, perché possono, come dice qui, cadere nell'orgoglio, nel laccio del diavolo, un neoconvertito, fratelli, non può essere un responsabile, non può essere un anziano, non può essere un pastore, ma prima c'è una crescita, una preparazione, un modellamento da parte di Dio, fratelli, che il Signore ci aiuti, perché qui stiamo leggendo che se uno vuole essere un vescovo, uno può avere il desiderio, è una cosa buona, è un buon lavoro, è una buona aspirazione, se tu desideri di essere un pastore, ho detto un pastore, non una pastoressa, un pastore, un vescovo, un anziano, un responsabile, un anziano di comunità, un ministro di Dio, se tu desideri questo, è una buona cosa, ma fratelli cari, dobbiamo sapere, io per primo, che ci sono dei requisiti, delle cose che Dio richiede, delle cose che Dio desidera vedere, dice che il vescovo, al verso 2, fratelli, deve essere irreprensibile, irreprensibile vuol dire una persona integra, senza colpa, cioè che nessuno ti può puntare il dito, che hai una buona testimonianza, che vive una vita consacrata, una vita trasformata, dalla potenza di Dio, irreprensibile, alleluia, poi dice marito di una sola moglie, fratelli, una sola moglie, questo vuol dire che un pastore, un anziano, un responsabile, non può essere uno risposato, oggi ci sono pastori che sono sposati due volte, divorziati, risposati, addirittura ci sono pastori che si sono divorziati due volte, alla terza, cosa possono insegnare queste persone, fratelli, questa è la verità, deve essere marito di una sola moglie, amè, alleluia, un vero ministro di Dio, non può risposarsi, fratelli, se purtroppo succede qualcosa nel matrimonio, e purtroppo capita che la moglie se ne va, la moglie viene trascinata dal diavolo, e la moglie se ne va, l'uomo di Dio deve rimanere da solo, non si deve risposare, alleluia, gloria al Signore, amè, il vescovo deve essere marito di una sola moglie, fratelli, per Dio non c'è divorzio né risposamento, quelle sono cose mondane, cose umane, cose carnali, il servo di Dio deve essere marito di una sola moglie, una, alleluia, gloria a Gesù Cristo, Signore dacci forza, deve essere sobrio, sobrio, una persona saggia, una persona, gloria a Dio, equilibrata, una persona sobria, lucida, assennato, prudente, ospitale, fratelli, il vero ministro, il vero pastore, il vero diacono pure, il vero servo, deve essere ospitale, oggi vediamo persone, fratelli, che non vogliono aprire le porte di casa loro a nessuno, non c'è più ospitalità, ma la Bibbia dice, non dimenticate l'ospitalità, di essere ospitali, perché mediante essa, molti, hanno ospitato angeli, fratelli, quando noi possiamo ospitare, qualcuno che ha bisogno, un fratello, una sorella che ha di bisogno, dobbiamo ospitare, fratelli, ma purtroppo a volte, ci sono persone, che non hanno questo sentimento, noi dobbiamo essere ospitali, soprattutto il servo di Dio, amèn, deve essere una persona che condivide, una persona, gloria a Dio, che non è egoista, che non è insensibile, indifferente, fratelli, che il Signore ci aiuti, vogliamo andare avanti, atto ad insegnare, Dio, fratelli, ci prepara, Dio ci modella, Dio ci unge, ci dà la capacità, tramite lo Spirito Santo, per poter insegnare, per poter insegnare, la parola di Dio, poi dice il verso 3, non dedito al vino, il ministro di Dio, non deve bere vino, non deve essere dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, amorevole, non litigioso, non amante del denaro, il servo di Dio, è come ogni credente, non deve essere amante del denaro, fratelli, il denaro ci può servire, senz'altro per vivere, ma noi non lo dobbiamo amare, quanti dicono amena, alleluia, noi non dobbiamo amare il denaro, il denaro ci serve per l'opera di Dio, è per vivere, per il necessario, il denaro non è per accumularlo, per amarlo, per desiderarlo, il denaro serve come, uno strumento per la gloria di Dio, fratelli, perché se noi abbiamo del denaro, possiamo anche glorificare Dio col denaro, serve per l'opera di Dio, per sostenere i missionari, serve per l'evangelizzazione, per andare a predicare l'Evangelo, dobbiamo pagare i biglietti, dei pullman, dei treni, e avere il necessario, perciò il denaro, fratelli, è uno strumento, non dobbiamo, non dobbiamo amare, non lo dobbiamo amare il denaro, no fratelli, ma il denaro ci serve, per la gloria di Dio, alleluia, uno che governi bene, la propria famiglia, e tenga i figli, in sottomissione, con ogni decoro, questo fratelli, è un punto, molto importante, perché, un servo di Dio, prima, con l'aiuto di Dio, deve tenere in ordine, la sua famiglia, come posso io, predicare il Vangelo, agli altri, se la mia famiglia, è scombusolata, se non l'esempio, i miei figli, se non cerco, di istruire i miei figli, che a volte, non è facile, perché un profeta, non è riconosciuto, in casa sua, e a volte, i figli, sono i primi ribelli, misericordia, però noi, dobbiamo vedere, con amore, con gli occhi spirituali, e insegnare, e con l'aiuto di Dio, a volte, se è necessario, con la verga, con la parola, col bastone, mettere ordine, nella famiglia, un servo di Dio, deve governare bene, la sua famiglia, perché io non posso, predicare agli altri, se prima non esorto, i miei, se non esorto, per dire un esempio, mia moglie, se non esorto, i figli, come posso esortare, un altro, se prima non esorto, me stesso, perciò fratelli, dobbiamo camminare, in questa saggezza, il servo di Dio, soprattutto, stiamo leggendo, il riguardo al vescovo, all'anziano, al ministro, però, sono insegnamenti utili, per ognuno di noi, amén, alleluia, verso 5 dice, ma se uno, non sa governare, la propria famiglia, come potrà, aver cura, della chiesa di Dio, amén, perciò fratelli, che il Signore, ci aiuti, a governare, bene, la nostra famiglia, con la saggezza di Dio, con la parola di Dio, con l'amore di Dio, dobbiamo, governare, nella nostra famiglia, ci deve essere, l'ordine di Dio, amén, e che il Signore, ci aiuti, fratelli, la Bibbia dice, che il capo, della moglie, è l'uomo, amén, la moglie, deve essere, sottomessa, al marito, come abbiamo, già parlato, in qualche riflessione, sottomessa, vuol dire, deve, ubbidire, a quello che, il marito, decide, da parte di Dio, la moglie, alleluia, è una sola carne con l'uomo, ma l'uomo è la testa, il capo, che Dio ha messo, è un ordine spirituale, fratelli, amén, è un ordine di Dio, amén, così come nella Chiesa, Dio ha stabilito un ordine, Cristo il capo, amén, ed è Lui che deve governare la Chiesa, e Lui stabilisce anche, dei ministri, dei pastori, è un ordine spirituale, amén, e la Bibbia dice che la donna non può insegnare nella Chiesa, questo vuol dire che la donna, fratelli, ha un ruolo, che Dio gli ha dato, ma una donna non può essere, una pastoressa, non può condurre una comunità, perché quello va fuori dall'ordine biblico, una donna non può esercitare autorità sull'uomo, la donna ha altri compiti preziosi, utili nella Chiesa, può essere diaconessa, può profetizzare quando Dio la spinge, gloria a Dio, una donna può essere usata potentemente da Dio, nella profezia, nei doni spirituali, nel pregare per gli infermi, amén, fratelli, io credo, ascoltate, che per la potenza di Dio, una donna, unta, ripiena di Spirito Santo, può imporre le mani agli infermi, può imporre le mani agli infermi, e guariranno nel nome di Gesù Cristo, perciò una donna può essere equipaggiata, usata da Dio, con i doni spirituali, profezia, rivelazione, discernimento di spiriti, doni di guarigioni, può, ma la donna non può avere un ministerio di autorità e di condurre la Chiesa, questo è qualcosa che va fuori dall'ordine di Dio, la donna può essere diaconessa, può testimoniare, gloria a Dio, può evangelizzare, può visitare gli infermi, ma non può avere un ministerio di conduzione, di governo, ministerio pastorale, non può essere una vescova, alleluia, fratelli, è un ordine di Dio, perché Dio è saggio, Dio è colui che stabilisce, è un ordine, fratelli, come c'è un ordine nella famiglia, i figli non possono comandare, i genitori, il marito è il capo della moglie, non perché l'uomo sia migliore, o sia superiore, o la donna non continuò, fratelli, ma perché è un ordine di Dio, prima è stato creato Adamo, è un ordine di Dio, la donna è venuta da Adamo, amén, è un ordine spirituale, alleluia, alleluia, gloria al Signore, vogliamo continuare nella lettura, amén, vedete nel verso 6 dice che il vescovo non sia, che non sia un neoconvertito, vedete anche questo è un ordine di Dio, anche questo è un ordine spirituale, il vescovo, o il pastore, o il ministro, o l'anziano, non può essere un neoconvertito, non può essere un neoconvertito, lo dice qui, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio, e non cada nella condanna del diavolo, vedete fratelli, che l'ordine di Dio, è per preservarci, Dio ha stabilito un ordine, che il vescovo non sia un neoconvertito, ma è per il bene, fratelli, di quella persona, per preservare quella persona, e per preservare anche la Chiesa, Padre Santo aiutaci, verso 7, ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiura, e nel laccio del diavolo, similmente i diaconi, siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino, non avidi di illeciti guadagni, e ritengano il mistero della fede, in una coscienza pura, amè, or anche essi siano prima provati, siano prima provati, poi svolgano il loro servizio, se sono irreprensibili, fratelli, questo vuol dire, che nell'opera di Dio, non può stare chiunque, al servizio, ma Dio prima ci deve provare, Dio ci deve preparare, c'è un processo, alleluia, di crescita spirituale, non chiunque, fratelli, si può mettere, alleluia, al servizio del Signore, o responsabile di una comunità, ma c'è una preparazione, fratelli, qui lo dice, amè, e questo vale anche per ogni credente, c'è un processo di crescita, di maturità spirituale, di consacrazione, noi dobbiamo crescere, fratelli, nelle vie del Signore, dobbiamo crescere, fratelli, nello Spirito di Dio, dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, amè, amè, gloria al Signore, alleluia, verso 11, dice, anche le loro mogli, siano dignitose, le mogli dei servi di Dio, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le proprie famiglie, amè, coloro infatti che hanno svolto bene il loro servizio, si acquistano una buona reputazione e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù, cioè quelli che svolgono bene il loro servizio, si acquistano una buona reputazione, fratelli, vengono stimati, apprezzati per la gloria di Dio, perché sono una buona testimonianza, sono una benedizione, sono strumenti veraci di Dio e poi dice e acquistano franchezza nella fede che è in Cristo, cioè sono uomini che hanno autorità, alleluia, sono uomini che hanno franchezza, uomini, alleluia, che hanno autorità di Dio, benedettosi al Signore, alleluia, ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonna e sostegno della verità. Fratelli, c'è un modo in cui noi ci dobbiamo comportare nella casa di Dio, noi dobbiamo imparare come comportarci nella casa di Dio, amè? Verso 16, e senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne, amè? È stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria, amè? Gloria a Dio, fratelli. Il nostro Dio è stato manifestato in carne, è venuto sulla terra, alleluia, Emanuele, Dio con noi, il Cristo si è fatto carne, Dio stesso è venuto sulla terra, alleluia, per liberarci dalla schiavitù, dalle tenebre e dal peccato, e per fare di noi un popolo particolare, un popolo speciale, un popolo santo, per la grazia e la misericordia di Gesù Cristo nostro Signore. Vogliamo continuare qui in Prima Timoteo capitolo 4, vedo che qualcuno ha già scritto dei brani da leggere, purtroppo fratelli non riesco a vederli bene, qualcuno mi è sparito, non lo so perché, avevo visto che una sorella e la sorella Maria aveva scritto Giovanni 7, se lo puoi riscrivere per favore sorella, amèn, vedo anche Galati 3, solo che altri commenti non mi compaiono, piano piano ce li ricorderemo tutti, amèn, se poi piano piano potete riscriverli, alleluia. Vogliamo continuare in Prima Timoteo 4, l'apostasia degli ultimi tempi, vedete qui è molto interessante fratelli che prima di parlare dell'apostasia ascoltate frate, questo è molto importante, Dio me lo mette nel cuore adesso, alleluia, prima di parlare dell'apostasia degli ultimi tempi, il Signore parla della preparazione dei suoi servi, della preparazione dei suoi servi, amèn, e questo vuol dire che Dio ci prepara fratelli, per affrontare ogni battaglia, ogni difficoltà, perché l'apostasia è una battaglia spirituale, ma noi siamo stati precedentemente, alleluia, preparati da Dio per sopportare ogni cosa, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, perciò il Signore fratelli ci prepara, ci equipaggia, ci fornisce della sua grazia, della sua potenza, amèn, vogliamo leggere prima Timoteo capitolo 4, dice or lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi, imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità, infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera, vedete cari fratelli e sorelle la parola di Dio e la preghiera santificano ecco perché noi dobbiamo vivere sempre nella parola e nella preghiera gloria al Signore alleluia perché noi stiamo già vivendo questi ultimi tempi di apostasia di confusione spirituale in cui molti stanno rinegando la fede stanno perdendo il primo amore si stanno raffreddando si stanno allontanando da Dio e dalla retta via e danno purtroppo ascolto a dottrine umane a dottrine di demoni ma il Signore fratelli tramite la sua parola ci preserva quando noi ci aggrappiamo a Lui viviamo una vita nello spirito santo una vita di preghiera una vita alleluia in comunione con Gesù Cristo alleluia Lui ci preserva e ci libera dall'inganno amén nel nome di Gesù alleluia verso 6 dice proponendo queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo nutrito amén nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino vedete per essere dei buoni servi dei buoni ministri e anche dei buoni figli di Dio noi dobbiamo essere nutriti come stiamo facendo adesso e ancora di più alimentati nelle parole della fede noi dobbiamo essere nutriti della parola di Dio ripieni della parola di Dio il nostro cuore la nostra mente devono essere pieni della parola di Dio alleluia perché la parola di Dio è saggezza è luce è potenza la parola di Dio è la lampada fratelli è la spada è la roccia è l'acqua viva la parola è il pane di vita la parola alleluia è la rivelazione è la conoscenza dei pensieri di Dio di Cristo Gesù amè? allora noi dobbiamo essere nutriti nelle parole della fede e della buona dottrina la buona dottrina fratelli la parola dottrina vuol dire insegnamento amè? noi dobbiamo rimanere nella buona dottrina perché fratelli in giro ci sono dottrine cattive dottrine che non sono buone dottrine cattive dottrine perverse dottrine malvagie insegnamenti cattivi che stanno dilagando nel mondo e anche in alcune chiese allora noi dobbiamo nutrirci della parola alleluia della fede della parola gloria a Dio della verità amè? della parola del Signore alleluia verso 7 dice schiva però le favole profane schiva allontanati dalle favole profane e da vecchie ma esercitati nella pietà esercitati nella pietà vuol dire cresci nella comunione con Dio cresci nello spirito di Dio cresci alleluia nella preghiera cresci nell'adorazione cresci nella devozione per Dio nella comunione con Dio verso 8 perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa ma la pietà è utile a ogni cosa avendo la promessa della vita presente e di quella futura questa parola è degna di essere accettata in ogni maniera questa parola è sicura è sicura questa parola è sicura è degna di essere accettata in ogni maniera amè per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati poiché abbiamo sperato nel Dio vivente alleluia il quale è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti amè gloria a Dio verso 11 comanda queste cose ed insegnale nessuno disprezzi la tua giovinezza fratelli perché Paolo scriveva particolarmente a Timoteo che era un giovane credente era un giovane servo di Dio che Dio lo stava preparando allora Paolo per lo spirito di Dio lo istruiva amè e gli inculcava la buona dottrina lo ammaestrava nelle vie del Signore così come il Padre deve fare anche con noi con me con te il Dio del cielo ci deve insegnare istruire inculcare la buona dottrina il Signore ci deve insegnare istruire ammaestrare affinché noi diventiamo dei buoni servi di Dio alleluia nessuno disprezzi la tua giovinezza ma divieni esempio ai fedeli nella parola nella condotta nell'amore nello spirito nella fede e nella castità o nella purezza come dice un'altra versione perciò il Signore fratelli vuole modellarci prepararci insegnarci istruirci affinché ognuno di noi che siamo suoi figli diventiamo degli esempi siamo di buon esempio soprattutto il servo di Dio il ministro ma ognuno di noi fratelli dobbiamo essere di buon esempio per gli altri nella parola amè nella condotta nell'amore gloria a Dio amè nello spirito nella fede nella purezza che il Signore ci aiuti amè cari gloria al Signore poi dice verso 13 applicati alla lettura ecco perché stiamo leggendo la parola e ogni giorno abbiamo la lettura biblica amè applicati alla lettura all'esortazione all'esortazione ecco perché ogni giorno abbiamo le riflessioni bibliche le esortazioni della parola di Dio all'insegnamento finché io venga fratelli che verso meraviglioso applicati alla lettura all'esortazione all'insegnamento finché io venga non trascurare il dono che è in te che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani amè non trascurare il dono di Dio che è in te fratelli Dio ci dà dei doni dei doni che noi non possiamo trascurare noi non possiamo prendere la leggera o tenere lì in un angolino noi dobbiamo esercitare i doni di Dio custodire ravvivare amè alleluia il dono di Dio nel nome di Cristo dobbiamo ravvivare il dono di Dio come Paolo ispirato dal Signore disse altrove ravviva il dono di Dio adoperati per queste cose dedicati ad esse dedicati ad esse interamente affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti alleluia abbi cura di te stesso e dell'insegnamento persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano fratelli noi dobbiamo avere cura di noi stessi stare attenti alla nostra vita vegliare su di noi e stare attenti all'insegnamento dobbiamo perseverare dedicarci a queste cose vogliamo fermarci qui poi più avanti continueremo nel capitolo 5 e 6 a me Dio piacendo vogliamo ringraziare il Signore per questa parola e poi passeremo un'altra lettura biblica amén gloria a Dio che qualcuno ha scritto Giovanni capitolo 7 e poi più avanti continueremo qua nel capitolo 5 e 6 amén gloria a Dio Giovanni capitolo 7 vogliamo intanto ringraziare il Signore gloria a Dio per questa parola amén grazie Padre per questi preziosi insegnamenti che tu ci hai voluto dare ancora questa mattina di come deve essere il comportamento dei servi del Signore di come deve essere il comportamento dei figli di Dio e delle figlie di Dio Padre fai sì che questa parola penetri alleluia nelle profondità del nostro essere del nostro spirito del nostro cuore della nostra anima della nostra mente Signore che questa parola penetri come fuoco e ci insegni ci inculchi la buona dottrina la buona parola il buon comportamento la saggezza la purezza Padre aiutaci tu sei il maestro la guida l'unico vero buon pastore che governa la Chiesa Signore noi siamo servi inutili noi siamo vasi di terra noi siamo padre piccoli i fanciulli alleluia che dipendono da te Padre insegnaci donaci del tuo spirito ricolmaci con la tua saggezza con la tua potenza Signore nel nome di Gesù facci avere autorità alleluia facci crescere facci maturare Signore illuminaci sempre di più trasformaci Padre aiutaci a governare bene le nostre famiglie a insegnare la tua parola nelle nostre famiglie a portare la luce Padre nella vita delle nostre famiglie dei nostri parenti dei nostri figli Padre alleluia 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 aiutaci a essere mariti di una sola moglie alleluia alleluia che le mie sorelle siano mogli di un solo marito nel nome di Gesù Cristo aiutaci a rimanere alleluia nella retta via nello spirito santo nella verità Signore nella presenza divina Dio della gloria alleluia 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 Padre che questa parola rimanga piantata inchiodata nei nostri cuori e che possiamo veramente meditarla oh Signore capirla fortificarci in essa per poi viverla alleluia e poterla anche Signore predicare con autorità con l'unzione che scende dall'alto con quella benedetta unzione che scende dall'alto senza la quale non possiamo fare nulla ti prego Padre continua a riempire i nostri cuori alleluia saziare l'anima a riempire il nostro cuore Padre te lo chiediamo nel nome di Gesù grazie per ogni parola che ci hai dato nutrici con le parole della fede della buona dottrina Signore riempici sempre di più con questa parola di saggezza di verità che illumina il cuore e la vita Padre delle persone facci essere di buon esempio nella tua opera Signore facci stare sempre attaccati a te Padre sempre in comunione con te aiutaci ad applicarci alla lettura alla lettura alla conoscenza alla parola nel nome di Gesù per il bene della Chiesa per il bene di ognuno di noi delle nostre famiglie Padre manda ancora la tua luce la tua unzione dal cielo in questo momento guidaci ancora in questa santa riunione guidaci ancora in ogni parola che leggeremo Signore guidaci tu rafforzaci alimentaci purificaci potenziaci Alleluia nel nome di Gesù continui a illuminare le nostre case le nostre famiglie fai un miracolo Padre Alleluia nel nome di Gesù Cristo noi ti ringraziamo ti odiamo ti benediciamo nel nome di Gesù vogliamo vedere la tua gloria Signore sei prezioso sei meraviglioso oh sei grande Dio Alleluia grazie Padre nel nome meraviglioso di Gesù continuo a rinnovare i nostri cuori Padre e che tutta la gloria va da te Signore nel nome nel nome di Gesù Cristo vogliamo cari fratelli Alleluia Benedetto vedo che dobbiamo ancora leggere il Salmo 103 Ecclesiaste capitolo 7 però prima vogliamo leggere Giovanni che una sorella aveva scritto Giovanni 7 gloria a Dio verso 37 gloria a Dio il Signore benedica la sorella Maria e tutte le sorelle tutti i fratelli che siamo uniti nel nome del Signore Amen Alleluia gloria a Dio Giovanni capitolo 7 vogliamo aprire Amen Alleluia Alleluia Grazie Padre per la Tua Parola Benedetto il nome di Gesù Giovanni 7 nel nome del Signore grazie per la fonte d'acqua viva Amen verso 37 Amen 39 gloria a Dio dice così la parola del Signore Ora Alleluia nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi Amen ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva Alleluia chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva or egli disse questo dello spirito Amen che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui lo spirito santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato Amen questo un brano meraviglioso Gesù si alzò in piedi in mezzo alla folla perché fratelli lui deve alzarsi lui deve inalzarsi in mezzo di noi lui deve stare al di sopra di tutto e di tutti lui si alzò e lui disse chi ha sete venga a me io sono la fonte io io sono la sorgente io sono l'acqua della vita e noi dobbiamo attingere da lui fratelli noi questa mattina stiamo bevendo dalla sorgente dell'acqua della vita noi dobbiamo bere dalla sorgente stiamo attenti a non bere in giro da da altri fonti tra virgolette o da bicchieri sporchi o da vasi sporchi perché oggi tanti stanno diventando dei vasi sporchi che non hanno più l'acqua della vita ma noi dobbiamo venire ai piedi del Signore per bere della sorgente dell'acqua della vita alleluia quell'acqua che ci disseta che ci rigenera che ci purifica che è lo Spirito Santo chi crede in me come dice la scrittura dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva noi vogliamo fratelli questi fiumi abbondanti d'acqua viva nel nostro cuore leggiamo ancora Matteo 6 e poi passeremo a qualche altra scrittura che era stata scritta Galati 3 leggiamo prima Matteo 6 verso 16 e 19 amén gloria al Signore Matteo 6 dal verso 16 al 19 amén amén ora quando digiunate gloria a Dio non siate mesti d'aspetto gloria al Signore aiutaci Padre amén alleluia come gli ipocriti perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia amén gloria a Dio Signore aiutaci nel nome di Gesù per non mostrare agli uomini che tu digiuni ma il Padre tuo che nel segreto il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente perciò fratelli che il Signore ci aiuti a digiunare secondo il suo volere secondo la guida dello Spirito Santo amén con la saggezza amén secondo la verità gloria a Dio che il Signore ci aiuti alleluia in questo giorno gloria al Signore c'era da leggere Galati 3 amén vogliamo cercare Galati 3 amén poi leggeremo il Salmo 103 Galati 3 gloria a Dio non mi ricordo i versi che erano stati scritti però chiedo alla sorella se è in linea se può scrivere i versi per favore Galati 3 gloria al Signore cerchiamo Galati gloria al Signore Galati 3 benedetto il nome di Gesù Cristo amén Galati alleluia alleluia amén Galati 3 leggiamo dal verso 1 amén amén gloria a Dio il Signore sia lodato amén il Signore o Galati insensati chi vi ha ammagliati per non ubbidire la verità voi davanti ai cui occhi Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi questo solo desidero sapere da voi avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede siete così insensati che avendo cominciato nello spirito vorreste finire nella carne avete sofferto tante cose in vano seppur è stato veramente in vano colui che dunque vi dispensa lo spirito e opera tra voi potenti operazioni lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede così abramo credette a dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di abramo alleluia sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di abramo e la scrittura prevedendo che dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede diede prima ad abramo una buona notizia in te scusate tutte le nazioni saranno benedette in te tutte le nazioni saranno benedette in te perciò fratelli mediante la fede noi siamo benedetti mediante la fede in Cristo noi siamo benedetti mediante la fede in Gesù noi siamo considerati figli di dio e anche figli di abramo che è considerato il padre della fede fratelli la fede è un valore che non può mancare nella vita dei figli di dio la fede poiché senza fede fratelli è impossibile piacere a dio noi dobbiamo essere ripieni di fede alleluia dio vuole un popolo di fede uomini di fede donne di fede è per questo che noi siamo qui questa mattina perché abbiamo fede nel signore alleluia oh gloria al tuo nome abbiamo fede in te signore confidiamo in te gesù noi speriamo in te signore amèm quanti dicono amèm gloria a dio verso 10 ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a dio perché il giusto vivrà per la fede alleluia fratelli vedete noi viviamo per la fede noi dobbiamo essere uomini di fede persone di fede la fede fratelli ci da vita ma quando non c'è fede fratelli le persone muoiono spiritualmente il giusto vivrà per fede e allora noi dobbiamo alimentarci con la parola perché la parola ci fortifica la fede la parola di dio aumenta la fede rinvigorisce la fede la farà crescere gloria a dio la parola di dio la fede viene dall'udire la parola di dio ecco perché la vogliamo leggere gloria a dio la vogliamo meditare la vogliamo alleluia dichiarare perché la parola di dio fa crescere fa crescere la fede e se cresce la fede noi abbiamo una vita abbondante nel signore perché il giusto vive per fede perciò più cresce la fede più si rafforza la fede e più abbiamo una vita abbondante nel signore alleluia oh gloria amen alleluia verso 12 amen benedetto sia il signore ora la legge non proviene dalla fede ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse Cristo alleluia Cristo Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello spirito mediante la fede sorella fratello tu puoi ricevere la promessa dello spirito mediante la fede soltanto mediante la fede tu puoi ricevere la promessa dello spirito santo amen e mediante la fede fratelli noi riceviamo amen la benedizione di Abramo affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù fratelli e tutti noi conosciamo la storia Dio benedisse Abramo in un modo abbondante meraviglioso potente Abramo fu chiamato amico di Dio Abramo vide la gloria di Dio Abramo ricevette una promessa di avere un figlio eppure umanamente era impossibile questo vuol dire che le cose impossibili all'uomo Dio le fa possibili amen Dio ci dà delle promesse magnifiche gloriose straordinarie sopranaturali divine ma noi per fede fratelli le riceviamo amen alleluia per fede puoi vedere la gloria di Dio alleluia per fede puoi andare a maschì a vedere la potenza la guarigione la liberazione un miracolo hai bisogno di un miracolo dell'intervento di Dio per fede lo puoi vedere forse fra di noi c'è qualche persona che per qualche ragione non può avere figli Dio ti può fare avere un figlio anche materialmente puoi avere un figlio gloria a Dio se tu credi nella potenza di Dio perché Dio fa partorire le sterili amen quante testimonianze ci sono fratelli di persone che non potevano avere figli pregarono il Signore e poi hanno avuto dei figli amen perché Dio lo stesso ieri oggi in eterno se tu hai avuto qualche problema non hai potuto avere figli Dio ti può fare avere dei figli gloria al Signore amen Dio fa abitare la stelle in famiglia quale madre benedetta di figli tu puoi avere dei figli se tu credi Dio ti può alleluia dare dei figli può gloria a Dio toccare il tuo ventre Dio lo può fare io conosco testimonianze fratelli amen per la gloria di Gesù Cristo bene il nostro Dio è lì Dio dell'impossibile amen nulla è impossibile a Dio e noi abbiamo queste promesse queste benedizioni amen alleluia oh rimala sciaia abbiamo queste promesse di Dio amen vedete la sorella ha scritto Dio me l'ha data io non potevo avere figli ha scritto la sorella Claudia Dio la benedica lei e la sua famiglia vedete Dio lì Dio dei miracoli amen non venire meno gloria al Signore ma Dio è fedele gloria alleluia nome di Gesù Cristo Dio è fedele Dio è fedele Dio è fedele Dio è vivente Dio onnipotente Dio è presente è presente è presente in mezzo a noi e lui ancora adesso fratelli adesso vuole fare un miracolo se tu hai bisogno di una guarigione di una liberazione se hai bisogno che si rompa qualche legame qualche catena Dio lo può fare gloria a Dio Padre nel nome di Gesù intervieni alleluia facci vedere la gloria la potenza la maestà Signore se c'è bisogno di un miracolo di guarigione Signore guarisci nel nome di Gesù se c'è bisogno di liberazione spezza i legami Padre libera da qualsiasi forma di schiavitù fai un miracolo Signore tu sei il Dio vivente il Dio onnipotente il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe sei il nostro Dio alleluia Padre stendi la tua mano su di noi e tocca le nostre vite e opera secondo il tuo volere Padre con miracoli segni prodigi alleluia battezza di Spirito Santo Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo battezza Signore Gesù di Spirito Santo riempi di Spirito Santo di fuoco di potenza dall'alto questa è la promessa dal Padre mediante lo Spirito mediante la fede mediante la fede puoi ricevere lo Spirito alleluia nel nome di Gesù Padre riempi di Spirito Santo ogni cuore ogni anima ogni vita ogni corpo riempici di Spirito Santo fino a traboccare immergici ungici nella tua presenza alleluia Signore ricolma di Spirito la vita dei miei fratelli delle mie sorelle fai una grande opera alleluia nel nome di Gesù un ravvivamento spirituale un rinnovamento spirituale una rigenerazione nello Spirito alleluia nel nome di Gesù Cristo vogliamo vedere la tua gloria abbiamo bisogno di te alleluia 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 re kamashuri hanabasai alleluia oh klimasuia alleluia riversa la potenza dello Spirito Padre in questo momento ti chiediamo riempimento facci traboccare di Spirito Santo fai sì che la tua presenza gloriosa potente Padre riempia le nostre vite alleluia 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 fai scorrere fai scorrere fiumi d'acqua viva come abbiamo letto Padre nella tua parola ramachindala mascei facci traboccare ricolmaci inondaci alleluia Spirito Santo scendi con potenza dal cielo infiamma i cuori come il giorno di Pentecoste vogliamo la fiamma il fuoco la potenza alleluia la virtù vogliamo traboccare di te Signore alleluia vogliamo ancora parlare nuove lingue vogliamo vedere la gloria i doni spirituali alleluia nel nome di Gesù Cristo Padre tu sei l'iddio vivente l'iddio onnipotente l'iddio di Israele El Shaddai alleluia apri i nostri occhi spirituali Signore apri le nostre menti apri i nostri cuori saziaci Gesù abbiamo bisogno di te alleluia alleluia in questa riunione Padre siamo uniti nel nome di Gesù Cristo facci vedere la tua gloria la tua gloria la tua gloria alleluia 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 nel nome di Gesù alleluia sì Signore vogliamo vedere quel grande fuoco Padre con le fiamme mio Dio che si alzano alleluia con un fuoco sopranaturale mio Dio alleluia vogliamo vedere quel fuoco toccaci col fuoco Padre come hai fatto col profeta Isaia che hai toccato le sue labbra coi carboni allenti alleluia alleluia vogliamo quel fuoco su di noi dello Spirito Santo alleluia togli via la stanchezza togli via padre la fame togli via padre il sonno togli via ogni cosa nel nome di Gesù rabbia soffia soffia dei quattroventi ravviva lo Spirito la fede l'anima la fiamma nei cuori Signore vogliamo vedere la potenza parlaci parlaci o nella tua parola Signore parlaci anche con lo Spirito con i doni profetici alleluia unge ogni vita ogni tuo figlio ogni tua serva nel nome di Gesù Cristo alleluia vogliamo essere edificati nello Spirito Santo come un solo corpo un solo esercito una sola casa una sola famiglia alleluia il corpo di Cristo deve essere unito sotto un solo capo alleluia padre noi ci umiliamo davanti a te vogliamo essere completamente bagnati nel fiume dell'acqua della vita alleluia purificaci lavaci alabasharabagataramassai fai ardere il fuoco padre anche nelle nostre case nelle nostre famiglie che le nostre case siano case di preghiera di adorazione case alleluia consacrate al re di gloria la tua parola dice se l'eterno non edifica la casa in vano si affaticano i costruttori noi vogliamo che tu signore eterno degli eserciti Yahweh padre della gloria onnipotente signore Gesù Cristo spirito santo vogliamo che tu edifichi la nostra casa la nostra vita la nostra famiglia alleluia il nostro matrimonio i nostri figli i nostri parenti genitori zii cugine fratelli sorelle carnali signore illuminali alleluia caccia via ogni tenebra nel nome di Gesù spezza ogni catena ogni legalme converti i cuori e portali a te ai piedi tuoi signore alleluia perché c'è una promessa padre come tu hai dato una promessa ad abramo io ti darò un figlio tu hai dato una promessa a noi di salvare le nostre famiglie salva le famiglie dei miei fratelli gloria a Dio gloria a Dio gloria al santo di Israele salva le famiglie spezza ogni opera del diavolo scaccia via ogni spirito padre dalle case dalle famiglie dai figli libera dall'alcol libera dai vizi libera dalla fornicazione libera dall'adulterio libera dalla pornografia libera libera dal peccato signore le famiglie i figli libera dalla ribellione libera dalla bastemmia libera signore dai legami nel nome di Gesù Cristo salva le famiglie signore che i nostri figli le nostre figlie siano ubbidienti siano timorate di Dio siano padre convertiti a te nel nome di Gesù Cristo ti metto nelle tue mani padre d'amore la mia famiglia la mia casa alleluia fai una grande opera padre anche nella vita di mia mamma signore nei nostri genitori padre nei nostri parenti alleluia guarisci i cuori guarisci le ferite signore c'è una promessa per gli ultimi tempi che tu padre riporterai il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri una riconciliazione metti amore pace serenità unità ordine rispetto santità nelle famiglie padre mio aiutaci ad avere padre un focolare nella tua parola mio Dio alleluia ramala maschaida calamassia padre libera ogni famiglia libera ogni marito libera ogni moglie libera padre i figli libera le figlie i cugini i zii i parenti apri i cuori dei nostri parenti dei nostri zii dei nostri cugini che non ti conoscono padre salva 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 le famiglie le famiglie alleluia restaura i matrimoni fai ritornare quei mariti che si sono allontanati padre oh signore se c'è qualche marito ribelle piegalo a te nel nome di Gesù piegalo con potenza padre come hai fatto con Saulo di Tarso sulla via di Damasco tu lo farai anche oggi padre alleluia per la tua gloria che quell'uomo ribelli diventi un servo del Signore che la tua potenza scenda su quell'uomo alleluia e lo pieghi e si inginocchi e si umili davanti a te alleluia affinché tu lo rialzi Signore alleluia alleluia i macchè nel nome di Gesù gloria al padre meraviglioso meraviglioso ti amo Gesù Cristo fammi vedere la tua gloria facci vedere la luce del tuo volto alleluia 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 raide che mesciai imassai nel nome di Gesù per fede dichiariamo la vittoria nel sangue di Gesù Cristo alleluia nel nome di Gesù amena alleluia alleluia rabbalakaya shibbalakei in the name of Jesus alleluia alleluia nel nome di Cristo amena a Dio tutta la gloria vogliamo fare una breve pausa cari fratelli e sorelle così approfitto amena vogliamo fare una brevissima pausa di qualche minuto amena per ricaricare il nostro cellulare amena faremo una breve pausa amena di circa un quarto d'ora e poi a Dio piacendo ci ritroveremo per continuare nella lettura biblica leggeremo il salmo 103 alla gloria di Dio amena pace del Signore ci rivedremo fra poco nel nome meraviglioso di Gesù Cristo e poi vi chiedo cari fratelli e sorelle di riscrivere nella nuova nella nuova trasmission nel nuovo video gloria a Dio vi chiedo di riscrivere i versi i capitoli che le volete che leggiamo per la gloria del Signore amena ci vediamo fra poco nel potente meraviglioso nome di Cristo Gesù il Signore della gloria amena amena amena